la prediction hai messo qualche soldo da qualche parte? io? si sinceramente no perché sono molto concentrato sulla vedere commentare allora parliamone secondo te se dovessi scommettere qualcosa su chi scommetteresti? su orti però ho detto me l'ha iniziato molto bene ovviamente è la risposta scontata cioè ci sta nel senso mamma mia mi fa sempre impazzire etalus di orti è veramente una cosa cioè ma questo dovrebbe essere un personaggio lento un personaggio e poi dopo lo vedi che fa 30 colpi al secondo e dici vabbè che fa il zoom per tutto lo stage esatto mi piace ok intanto qua tommy come dicevi era partito super bene 150% che veramente se non leggi la percentuale non si sentirebbe neanche dall'altra parte però orti sta facendo un comeback abbastanza buono ma eccoci qua primo stock ok orti ha perso la stock ma vuol dire relativamente perché orti c'ha le scompressioni del ti tocca una volta e muori nel senso non cioè il comeback ecco esatto attenzione dash attack up smash dacus così veloce pulito entrato fino adesso le stock sono new event che è una cosa da non sottovalutare poi il fattore armor di etalus esatto esatto soprattutto se sei in vantaggio di stock ma anche se sei in svantaggio a volte perché c'è anche lo scenario del ah ho appena acceso l'altro sono al 100 però mi prendo l'armor cioè mette pressione all'altro anche se in vantaggio no si si tu dici ah si è vero è a 100 ma è etalus con l'armor quindi è come se fosse a 50 è chiaro no scusa io nel frattempo che ti ascolto cioè rimango veramente senza parola a vedere il figa è sto etalus che fa mille cose io veramente non capisco eccola questa oddio intanto qua dacus molto lento da parte di orti perché non c'era il ghiaccio no quindi visto che sembra così goffo come cos'è che sta facendo aiuto no bene qua credo che sia stato aiutato in maniera sublime dell'armor ci sta con l'app smash di prima intendo anche adesso a non morire ma muore ora wow bene si vede che non si aspettava il fer da quel lato e quindi ha sbagliato di ai ma a prescindere secondo me se avesse fatto di ai out cioè di ai in scusami sarebbe morto dall'alto certo certo era o in un modo o nell'altro moriva lo stesso sì secondo me sì ci sta lancia i sassi quello che fa crag qua orti secondo me sta forse essendo leggermente impaziente verso i pillar di tommella mh 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 per te tommella fa quasi un po' troppo i pillar no vedi anche qua e comunque tu dici vabbè pillar però il pillar ha uno start up importante no cioè non e se altro colpisce subito va in freefall e quindi punish gratis che su rivals può volere dire morte anche a basso percentuale qua strano le volte non abbia fatto da uno smash che copriva più opzioni perché eh chissà come è eh smash li copriva tipo taking place oddio wow è stato colpito proprio dal tipper dell'app smash di etalus tommella quell'undun bello sto match cioè è attirato mi è piaciuto è stato molto neutral onestamente cioè sono morti in un po' di interazioni cioè ci è voluto per morire in questo set Sì esatto Soprattutto al lato etalus Tu dici vabbè ovvio sono heavy Però mi nel senso che Se vieni guardato in qualche modo Essere heavy Non vuol dire niente L'esempio classico è tipo Krag che viene Reso Lontano col pillare muore anche Al 10 cioè quindi Bisogna sempre stare attenti Con Con le recovery Le di ai e tutto Upper upper Classico di Krag Krag ad umanità Fair 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 upper 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 Mamma mia Mamma mia Oh mio dio Ha teccato o c'era ancora sotto il pillo Non ho idea sarebbe da rivedere Col replay Ragazzi se Se qualcuno fa una clip Ho visto che arriva un po' di Da un piccosico Questo è molto kexta Un saluto Un saluto Al Al Giocatore di Rivals Ok per l'italiano Esatto Ecco La cosa che volevo dire prima È che Comella Ha come avuto l'occasione Per vincere il primo game No Non dico che adesso Non possa vincere Non voglio gufarla Né da una parte Né dall'altra Ma Contro giocatori forti Come Orty È più probabile Prendere il primo game Ma dopo perdi Tutti quelli dopo No Onesto Perché magari c'è un po' di Riscaldamento Barra adattamento E Tutti questi fattori Infatti Orty Aveva un bel vantaggio Di una stock Già in questo game Adesso è even Però Era iniziato decisamente In favore di Orty Il game Ecco Questo Pillar down Di Tom Mell È proprio Insistente Bello Come quel reverse backer Era fantastico Sì Oddio Oddio Com'è che è andato di là? Poteva teccare Lo sai Perché è rimbalzato Sullo stage Ah sto male Anche se era tipo Nella presa? Eh sì perché L'ha lanciato E rimbalzato Ah ecco perché Ok ok Chiaro Perché mi aspettavo Andasse verso il basso Invece è andato dritto E quindi era per quello Il motivo Ok Oddio Qua è brutta Oh madonna Oh madonna Qua è stato intelligente Tom Mell A fare prima side B E non prima up Che cosa? Ha cancellato il pillar E se tu sei sul pillar E viene distrutto Vai in primo Sì 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 No abbiamo fatto ridere La martellata Proprio per dire basta Non la voglio Stas talk Sì Credo che Abbia sottovalutato Tantissimo L'awareness Di Tom Mell Ci sta Oddio Però Ciò nonostante What up smash? Cioè Credo che Abbia sbagliato L'adi Di pochissimo Ok Oppure abbia driftato Magari out Boh perché Mi sembra che sia morto Quasi eccessivamente tardi No Cioè L'up smash l'ha colpita E poi Tipo Viaggiato per due secondi E poi è morto Sì 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 Boh stranissimo Quindi mi è un po' confuso Questa cosa Vabbè torna su Tower of Heaven Che ci sta Perché La seconda notte del game Comunque Tom Mell Ha fatto di più di Orticoltore Perché ha perso Ma Ha perso Facendo un comeback Diciamo Certo E quindi Il momentum È più dalla sua Per ora Devo dire Questo mi sta dando Le stesse vibe Del set di prima Dove dici Sì ok Siamo a 2 a 0 Però Nonostante questo I batch Sono estremamente Tirati E potrebbe Tranquillamente Essere un reverse Da adesso in poi So che Qua In questo caso specifico Perlomeno Tom Mell Ha proprio Sbagliato L'Adi Su Sul fair Di orticoltore È morto 70 Krag Non esiste Cioè Certo Devi proprio Fare di eye out Cioè Non credo che Con no di eye Non credo sarebbe morto Bello Lì E Questo però È il secondo Che si prende Tom Mell Dovrebbe stare Attento A stare sotto Ayrus Soprattutto Anche percentuali Ecco A provare il doppio Upper Attenzione Che però non entra Adesso Tipo Fa una combo Potrebbe Potenzialmente finita Sì sì Cioè Oh attenzione Wobble E niente Questo Era il massimo Del cringe Che può F***